Domenica giochiamo in trasferta contro la Salus, squadra che dopo un inizio complicato ha ridito due vittorie consecutive molto importanti, quindi sappiamo che sarà molto complicata questa partita soprattutto perché loro stanno esprimendo sempre di più il loro potenziale e vorranno sicuramente continuare la loro striscia positiva di due vittorie. Dobbiamo sicuramente migliorare sull'aspetto difensivo, perché nonostante molti punti segnati stiamo seguendo troppo in difesa, quindi settimana stiamo cercando di lavorare su questo aspetto nel fatto di limitare i possessi avversari e di subire meno canestri, soprattutto dall'alto di te. Non mi resta che invitare tutti i tifosi BSL domenica pomeriggio a tifare per la nostra squadra.